Giussani, falegnami dal 1930, esperienza, competenza ma soprattutto affidabilità. Roberto Giussani Falegnameria nel suo decimo anniversario di attività propone arredamenti casa, negozi e uffici, progettazione e proposte su misura anche con marche di aziende leader nel settore, porte interne, porte blindate, serramenti, danno alla bottega del falegname il valore aggiunto per il servizio completo della tua casa, pagamenti personalizzati a interessi zero, prima rata a 90 giorni. Speciale promozione, presentati specificando la presa e visione di questo spot e ti riserveremo uno sconto extra sull'intera fornitura. Falegnameria Giussani di Roberto Giussani a Ponte Lambro in via Sauro 32, telefono 031 6204 14.